E poi Blef Diva, hai ricordato tu che Olga Rellert ha detto che vorrebbe provare a far correre il cavallo in testa. Vedremo, vanno. Decima e ultima corsa è la batteria B del qualificazione al derby italiano del Trotto, la terza in ordine di svolgimento. L'errore di quest'ultimo, prima dello stacco, la macchina che lascia i concorrenti, c'è lotta per il comando con all'interno. Ben Gurion Jet in mezzo alla pista, Bon Jovi che è quello che alla fine riesce ad essere incisivo. È partito forte anche Blef Diva ma è in schiena a Bon Jovi perché nel frattempo Ben Gurion è rientrato con il favore della corda. E allora Bon Jovi MMG che si accoda in seconda posizione, Blef Diva che rimane scoperto all'esterno, al lato di Baccani. Tutto questo di fronte, poi c'è anche il numero 13, Bonges Bondgar che è partito bene dalla seconda fila e si arriva ai primi 400 metri in 29. Che comunque consentono ora a Blef Diva di sopravanzare il numero 2 di Ben Gurion Jet e trovarsi al comando là dove voleva essere Blef Diva nei confronti di Ben Gurion. Poi Bon Jovi, poi allargo il numero 13, Bepi B, quindi più indietro gli altri. Il completamento dei primi 800 metri che viene via e nell'ordine del 58,6 con sempre Blef al comando. Nei confronti di Ben Gurion, Bepi B che comanda il treno esterno di corsa, pedinato da Bombus Jet, si arriva così al chilometro. Passato nell'ordine dell'1,14 da parte di Blef Diva che continua a condurre mentre si va compattando un po' il plotone. Quando siamo adesso sulla piegata di destra con Blef Diva sempre al comando, sempre in schiena Ben Gurion Jet, terza posizione alla corda per Bon Jovi MMG. All'esterno c'è Bepi B pedinato da Bombus Jet. Tutto ciò quando siamo ai 600 finali con un paletto che da un palla a metà di tay fronte in 37 da parte di Blef che continua a condurre. Ora si è avvicinato Bepi B che è a mezza lunghezza dal leader, sempre pedinato da ora da Bibbop ferme che si è posto in seconda pariglia. Va in pressing Bepi B nei confronti di Blef Diva. I due entrano quasi apparigliati in addirittura di arrivo con Bepi che cerca di attaccare Blef Diva. Lo fa in questo momento, tende a passare Bepi B. Più indietro c'è il numero due di Ben Gurion Jet che sgabbia dalla corda. Bepi B che è passato, Bepi B che si allunga nel finale, fa il tris di Vincenti, il team goccia d'oro nei confronti di Ben Gurion Jet. Probabilmente che nel finale ha la meglio di misura su Blef Diva, anche se in questo caso sarà opportuno rivedere il replay. Due ventisette e mezzo sul cronometro per Bepi B, partenza e arrivo all'esterno come imponeva il numero. Ma il figlio di Donato Allover riesce comunque nel finale a mettere sotto l'avversario. Può esultare Alessandro Gocciadoro. Il tredici al primo posto, mentre per il secondo probabilmente Ben Gurion Jet ha la meglio su Blef Diva. E quindi il tredici al primo posto, il due al secondo e il sette al terzo. Questo dovrebbe essere l'ordine di arrivo ufficioso di questa terza e ultima batteria di qualificazione. Grazie. 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 Grazie.